La riforma della scuola proposta dal governo Renzi tocca vari punti, dal precariato alla meritocrazia, dalla didattica al ruolo dei dirigenti, dal finanziamento delle istituzioni scolastiche alla valutazione delle scuole, passando per i progetti di riqualificazione degli edifici scolastici e l'efficientamento delle scuole. Ma se il governo rassicura sull'assunzione di 150.000 precari, il sindacato mette in allarme. I posti, infatti, potrebbero non essere sufficienti per tutti. A sottolineare la situazione la CGL di Cremona. Non abbiamo ancora notizie per i docenti delle graduatorie d'istituto e per i docenti abilitati TFA e PAS. Così come ancora non ci sono notizie sullo famoso censimento che doveva essere fatto entro dicembre 2014 per capire l'effettiva e reale situazione dei posti liberi. Così come anche, ancora non abbiamo notizie chiare e certe, sulla valutazione, sulla carriera e sull'aggiornamento anche dei docenti. Entro il 31 dicembre di questo anno doveva essere effettuato un censimento dei docenti delle graduatorie, ma ad oggi non c'è alcuna garanzia che questo sia stato fatto. Riguarda le graduatorie ad esaurimento, quindi, della nostra provincia, si presume che verranno tutti messi in ruolo, però è ancora poco chiaro, ed è a questo che noi stiamo cercando di dare delle risposte, l'occupazione di questi docenti. Il dato più allarmante riguarda invece i docenti specializzati nel sostegno nella provincia di Cremona, mancano infatti oltre 130 insegnanti. Molti sono gli istituti che stanno chiamando, quindi proprio per supplire, attraverso le MAD, che sono delle messe a disposizione, quindi significa che sono docenti chiamati da fuori graduatorie, perché di sostegno c'è una carenza anche nella nostra provincia. E fra l'altro da nostre fonti sembra che finalmente stiano per partire i corsi di specializzazione proprio per il sostegno. È una buona notizia perché tanti sono i docenti che comunque hanno intenzione di acquisire questa specializzazione proprio per poter finalmente garantire un diritto all'alunno di avere docenti specializzati. La CGL propone di sbloccare la finestra di pensionamento che potrebbe liberare 4.000 posti e sul fronte del personale non docente le incognite sono davvero molte. Sicuramente porterà a un taglio di questo personale, tant'è che a livello nazionale parliamo di circa 2.020 persone in meno e dobbiamo ovviamente capire in quale ordine verranno poi suddivise. Grazie a tutti!